Tra alti e bassi un'altra estate trascorre sulle rive di Corigliano Rossano, una metaturistica e vacanziera in crescita e che ormai da anni attende un definitivo sviluppo. Intanto arriva il soleone a queste latitudini, dove la calura estiva inizia a farsi sentire proprio in questo periodo, si riversano tutti in spiaggia alla ricerca di refrigerio. Ma quanto costa un bagno nel mare della nuova polis della Sibaritide? I prezzi sono, non dico bassi, ma sono concorrenziali ad altre città vicino alla nostra Rossano. Parliamo di un ombrellone e due lettini, sono 12 euro al giorno, un ombrellone e un lettino sono 9 euro, poi c'è il mini abbonamento e poi c'è lo stagionale, assolutamente cifre che possono spendere tutti. Passare una giornata al Fredrikonte Bic costa 10 euro. Un ferragosto all'insegna della buona gastronomia e arriva al mare, i prezzi sono del tutto accessibili. I prezzi sono modici, quindi per una cifra di 35 euro a persona con un antipastino. Grazie. ... ... ... e quello che vuole con le fosse per la Cineus 24